Un cross lungo di Angus, palla controllata vicino all'area di rigore da Black che allarga per Willy Miller, prontissima la conclusione di Miller con un bel sinistro secco che batte il portiere Wernerson e porta in vantaggio la formazione scozzese che però viene raggiunta prima della conclusione del primo tempo, siamo al 42esimo e c'è questa bella conclusione di Holmgren, molto bravo Holmgren nel controllare la palla e nel realizzare battendo il portiere Cooper. Nei primi commenti scozzesi non è stata sottolineata la prova di Cooper o meglio sarà sottolineata in senso negativo. E attenzione ecco però Cooper che effettua questo lunghissimo rilancio, siamo oltre la mezz'ora del secondo tempo, la palla è controllata direttamente da John Hewitt che porta nuovamente in vantaggio la Berdina a circa 10 minuti della conclusione. Lunghissimo rinvio di Cooper, palla che arriva nei pressi dell'area di rigore dove John Hewitt è in agguato e batte ancora Wernerson. Siamo sul 2-1 a 11 minuti dalla conclusione, rivediamo ancora questo gol abbastanza insolito perché in pratica l'assist è direttamente del portiere Cooper. Ma al 44esimo c'è il gol del 2-2 definitivo realizzato dalla formazione svedese, anche per la Svezia siamo proprio alla ripresa della attività. Ecco il lancio di Pettersson che pesca molto bene Ekstrom e Ekstrom aggira il portiere dell'Aberdine, vedete il lancio di Pettersson, si è trovato il giocatore avversario praticamente solo, aveva superato molto bene nello scatto un difensore, quindi è un po' difficile attribuire la colpa a Cooper come invece è stato fatto dai giornali scozzesi. Questo pareggio dalla formazione finlandese del Pusisi Latis nel campo...